L'ingiustizia delle leggi umane, Tibet. Il mondo dovrebbe vergognarsi per aver permesso che la Cina invadesse il Tibet e dovrebbe continuare a vergognarsi di chiamarsi società civile e dovrebbe vergognarsi di continuare a permettere la violenza che si applica sistematicamente nei confronti dei tibetani. Che cosa fanno le Nazioni Unite? E voi che ascoltate questo video, cosa fate? Inorridite! E quando andate a votare ricordatevi del Tibet? Dando il voto a chi si è schierato pubblicamente con i tibetani. Politici, che dovreste dedicare il vostro tempo nell'affermazione dei diritti umani e che seduti sul vostro vellutato scranno permettete che un popolo subisca queste ingiustizie. Come guardate negli occhi i vostri figli? Tu, che puoi parlare al popolo italiano attraverso il Parlamento, perché non ti adoperi per aiutare i tibetani? Domani potrebbe succedere anche a noi di subire quel tipo di violenza. Italiani, quando potete chiedete ai vostri politici di intervenire e se non lo fanno, non votateli. Dovete pretendere che siano la vostra voce e non lasciatevi infinocchiare dal loro politichese. Mandateli a casa!